Come velocizzare e aumentare così la velocità dei download su Epic Games, anche se in casa tua ti hanno installato una buona rete, una fibra ultra veramente ottima, ma io a scaricare faccio all'incirca 3-4 MB al secondo fino ad un massimo di 5-6-7 MB perché è tutto attraverso Wi-Fi. Tu puoi vedere tasto destro sopra, impostazioni rete e internet, impostazioni di rete avanzate, vai su Wi-Fi ed ecco qua la velocità di collegamento e questo è 144 MB al secondo che è veramente uno schifo. Quindi in questo caso ho collegato, visto che mi hanno messo la fibra ultra in casa, ho voluto direttamente comprare un cavo ethernet che mi fa arrivare la connessione fino a 1 GB al secondo. Quindi ho preso questo cavo ethernet che è anche abbastanza buono, economico ed è veramente ottimo. Quindi in questo caso ho provato così a connettere questo cavo ethernet per farti vedere impostazioni di rete avanzate. Faccio abilità qua, disabilità della Wi-Fi perché oggi è meglio il cavo ethernet al posto della Wi-Fi. Quindi se tu hai il computer in una stanza e il modem sta tipo a 20 metri dalla tua stanza, fai in modo di connettere e collegare un cavo ethernet per velocizzare al meglio la tua connessione internet. Come puoi vedere da 3 MB siamo passati all'incirca su 33-34 MB al secondo e sta ancora aumentando. Il problema di Epic Games che arriva fino a questo massimo qua, 40-50 MB, invece su Steam stiamo sui 85-90 MB al secondo perché scarico veramente velocissimo su Steam. E se scarichi e installi anche un gioco su un disco velocissimo come un SSD NVMe che vengono piazzati proprio sulla scheda madre, è ancora meglio e fanno ancora più veloci sia nel scaricare che nell'installare i giochi. Quindi per configurare anche il cavo ethernet al meglio, tasto destro sopra, impostazioni rete e internet, impostazioni di rete avanzate, andiamo direttamente su questo cavo ethernet, il mio come puoi vedere, velocità a collegamento 1000 MB al secondo che sarebbe un gigabit. Il posto della Wi-Fi che andava veramente lentissimo. Quindi vado su altre opzioni scheda, modifica, protocollo internet versione 4.tcpv4, ottieni indirizzo server DNS automaticamente oppure utilizza i seguenti indirizzi server DNS. Un ottimo indirizzo server DNS che vi posso consigliare è quello del Cloudflare che sarebbe 1-1-1-1-1-0-0-1 e faccio ok. E provo di nuovo a scaricare il gioco, vediamo anche a quanto arrivo di velocità di download. Quindi come hai notato la velocità di download è arrivata fino ad un massimo di 38 MB al secondo in questa velocità di download, poi si è fermata, quindi il Cloudflare è abbastanza buono fino ad arrivare a 38 MB al secondo. Quindi in poche parole se hai un buon cavo Ethernet e una buona fibra ultra in casa puoi scaricare velocissimo. Ma se tu invece usi un modem oppure non so dei dati del telefono che usi come router e lo attacchi così al computer e la velocità di connessione è sui 3-4 MB, quella è la connessione. Quindi per non farti proprio perdere tempo nel senso proprio a cercare soluzioni come aumentare sempre la connessione attraverso il computer, ti consiglio di farti installare veramente una buona connessione in casa, la fibra e usare anche un cavo Ethernet. Quindi io ho risolto per forza così, quindi anche se hai problemi con il cavo Ethernet a installare così il cavo, la connessione Ethernet, ti consiglio proprio di andare su programma che si chiama, che ha Windows System Information, vai così a trovare prodotto scheda di base B450 Gaming Plus, questa è la mia scheda madre. Vado su internet e scrivo P450 Gaming Plus Max, vado qua sopra, vado su support, vado su driver, LAN driver ed eccolo qua, scarico e installo l'ultimo driver rilasciato, la mia scheda madre, scarico e installo e poi quando devo aggiornare i driver vado direttamente sul tasto destro su start, gestione dispositivi. Eccolo qua di Altec, aggiungo una driver, cerchi il driver nel computer, scegli da un elenco driver disponibile, qui qua sopra, lascia avanti, installo il driver e basta e poi riavvio il computer. Quindi se hai problemi commenta sotto al video, per altri problemi ancora potrei anche fare un altro tutorial in futuro, ci sono altre guide a riguardo in alto a destra nelle schede, quindi grazie a tutti per questa visione, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.